Il bene comune che richiede anche sacrificio sarà credibile. Chiesa e politica. Il Signore Gesù ha istituito la Chiesa sui dodici apostoli, lo sappiamo. La nostra fede si fonda in ultimo sulla loro esperienza. Ecco perché tanto è importante la successione apostolica in cui noi vescovi siamo inseriti, perché possiamo noi garantire che la fede del popolo cristiano è identica a quella dei dodici, perché sono loro che hanno conosciuto Cristo, nessun altro. Ecco il valore del Magistero della Chiesa. Al Magistero dei Vescovi, Cun Petro e Tessub Petro, come recita il Concilio, affida l'autenticità della fede che sale dalle origini. In Cristo i discepoli trovano se stessi, il loro presente e il futuro, il tempo e l'eternità. Con Lui scoprono un modo nuovo di vedere le cose, la vita, gli altri, la storia. Gli atti degli apostoli testimoniano un modo diverso di essere nel mondo, un modo che, ad esempio, è rispettoso dell'autorità dell'imperatore, ma nella verità solo a Dio va al culto e l'adorazione. Nessun altro. Un modo che è al centro la persona, che mai può essere ridotta a strumento, poiché è immagine e somiglianza di Dio, redenta dal sangue di Cristo. Un modo per cui gli altri non sono visti solamente come dei simili, ma dei fratelli, perché figli dello stesso padre. In quale modo, ci chiediamo ora, la Chiesa sta nella storia degli uomini e quindi in che modo si rapporta con la politica? Viene in mente il Vangelo. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Le parole di Gesù sono chiare e non ammettono sofismi. Per annunciare il Vangelo è necessario che i cristiani siano dentro al mondo senza assimilarsi al mondo. Il vero, unico sale della storia è Cristo. Egli solo preserva dalla corruzione della morte e restituisce all'universo il sapore delle origini. Per questo la Chiesa sala la storia nella misura in cui annuncia Gesù Cristo.